Cara lettore o lettrice oggi ti presento la storia motivazionale di una straordinaria ragazza, protagonista del libro Catherine della scrittrice Karen Cushman, che nel Medioevo lotta per la sua indipendenza. Nel pittoresco villaggio di Stonybridge, nella contea di Lincoln in Inghilterra, un'ardente fiamma di ribellione brucia nel cuore di Catherine, una giovane quattrodicenne dalla personalità indomabile. Il destino di Catherine sembra segnato sin dalla nascita, poiché è la figlia di un cavaliere di campagna e viene affettuosamente chiamata uccellino dalla sua famiglia. Tuttavia, il 19 settembre dell'anno 1290 segna un punto di svolta nella sua giovane vita. Il fratello Edward, un animo più aperto e progressista, svolge un ruolo cruciale nel percorso di crescita di Catherine. Non si accontenta di limitare l'educazione ai soli ragazzi, e le insegna a leggere i libri sacri e a scrivere. Questo gesto rivoluzionario consente a Catherine di sviluppare la sua mente brillante e creativa, aprendo la strada a un mondo di opportunità prima impensabili. Animata da uno spirito curioso e vivace, comincia a tenere un diario delle sue giornate, sotto suggerimento del fratello Monaco, con la speranza che questo la aiuti a crescere e a sfuggire alla noia della sua routine quotidiana di filatura. Il suo percorso verso l'indipendenza e l'autodeterminazione, tuttavia, è disseminato di ostacoli. La famiglia di Catherine ha grandi progetti per lei, vogliono che diventi una dama elegante, docile e beneducata, una perfetta sposa per un uomo ricco. A tal fine, le impartiscono lezioni di signorilità, cercando di imboccarla su un percorso predefinito e conservatore. Tuttavia, la giovane ribelle è determinata a non farsi stravolgere da queste aspettative. Ma il destino apparentemente ineluttabile di Catherine, la vuole come sposa devota e continua a tormentarla. Per lei, è una congiura dell'universo per renderla infelice, una prigionia di cui vuole sfuggire. Sogna di essere libera come un falco che plana nei cieli aperti, di partecipare a crociate e combattere pagani, vivendo avventure eroiche e dormendo sotto cieli stellati. Con il passare del tempo, la ribellione nel cuore di Catherine cresce sempre più feroce, alimentata dalla sua sete di libertà e indipendenza. Decide di affrontare il suo destino con coraggio e determinazione, come una leonessa che difende il suo territorio. Non accetta passivamente le aspettative della sua famiglia o della società, ma si erge come un simbolo di speranza per tutte le donne che desiderano essere padrone del proprio destino. Attraverso innumerevoli sfide e difficoltà, Catherine si scontra con le convenzioni medievali, dimostrando che il valore di una donna va ben oltre il suo ruolo di sposa o madre. Si fa strada con audacia, rifiutando di essere limitata dalle catene dei pregiudizi e delle norme sociali. Con una scintilla negli occhi, rivendica il diritto di scegliere la propria strada, inseguendo i suoi sogni con passione e intraprendenza. Si rivela una giovane donna straordinaria, capace di affrontare battaglie sia con la spada che con la mente. Quando giunge il fatidico giorno in cui suo padre tenta di darla in moglie a un uomo ricco e potente, Catherine prende una decisione epocale. Riunita con tutto il suo coraggio, si oppone alla decisione del padre, rifiutando di essere venduta come una merce. Lei è un'anima libera, una colomba destinata a volare verso orizzonti sconfinati, e non accetterà mai di essere imprigionata in una gabbia. Catherine si avventura in un cammino non tracciato, lottando per i suoi sogni e per una vita vissuta secondo i suoi desideri. La giovane ribelle dimostra che la forza interiore e la perseveranza possono abbattere le barriere del passato e aprire nuovi orizzonti per le donne di ogni epoca. La sua è una testimonianza del potere della determinazione e dell'autodeterminazione. Attraverso la forza di Catherine, impariamo che ognuno di noi ha il diritto di scegliere il proprio destino, di seguire i propri sogni e di vivere una vita autentica e soddisfacente. La sua storia ci ricorda che possiamo essere artefici del nostro destino, indipendentemente dalle circostanze e dalle aspettative che ci circondano. Catherine ci insegna che, anche quando sembra che il mondo intero sia contro di noi, possiamo trovare il coraggio e la forza di perseguire i nostri desideri e di realizzare i nostri sogni più audaci. E così, come una colomba che spiega le ali e solca i cieli con grazia e fierezza, Catherine lotta verso un futuro di libertà, indipendenza e realizzazione. La sua storia è un grido di speranza e di cambiamento, un richiamo per tutte le anime ribelli che cercano di fiorire in un mondo che spesso cerca di imprigionarle. Sia che siate giovani lettori o adulti, Catherine vi spingerà a credere nella vostra forza interiore, a seguire i vostri sogni e a essere i capitani delle vostre vite. Afferrate la penna del destino e scrivete la vostra storia, proprio come ha fatto Catherine, la giovane ribelle. Dal libro è stato tratto un adattamento cinematografico dal titolo Catherine. Se il libro ha catturato la tua curiosità, ti invito a condividere le tue impressioni nei commenti qui sotto e ad iscriverti al canale.